Cambia il volto dell'emergenza, sorpresa il presidente del Consiglio Draghi convoca il commissario Arcuri, lo ringrazia e lo congeda dal ruolo che ricopriva dal 18 marzo scorso. Allo suo posto viene nominato il generale del Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, comandante logistico dell'esercito. Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, generale di divisione Francesco Paolo Figliuolo. Una decisione che pare preludere a sostanziali cambiamenti nella gestione della campagna di vaccinazione e che matura nel giorno della cerimonia di giuramento dei 39 tra vice ministri e sottosegretari a Palazzo Chigi. Un generale al posto di Arcuri, che cosa significa questo? Un generale di Corpo d'Armata di straordinaria esperienza come generale Figliuolo, un'eccellente scelta da parte del presidente Draghi. E davanti al presidente del Consiglio sfilano per il giuramento vecchi e nuovi volti. Sicuramente uno dei sottosegretari che lavorerà più a stretto contatto di Draghi è il capo della polizia uscente, Franco Gabrielli, scelto proprio da lui nel ruolo non soltanto di sottosegretario ai servizi di sicurezza, ma anche di consigliere alla sicurezza nazionale. E l'intenso lunedì di Draghi non finisce qui. Il premier, dopo il giuramento, convoca a Palazzo Chigi una riunione con i ministri sul dossier Covid. A quanto si apprende da fonti di governo, la cabina di regia avrebbe come oggetto le ultime limature al testo del nuovo DPCM, la cui firma è attesa per domani.